stai tranquillo Luca buono dai Lucchino Luca in schermo Luca esgrima esgrima e sali Luca sali sali tranquillo Luca i gomiti metti dentro i gomiti Luca dentro i gomiti tranquillo è lunghissima però devi mettere bene i gomiti dentro e poi lo devi guardare ok Luca i gomiti chiusi dentro